Oggi parleremo di tutte le novità provenienti dalla fila del mobile di Milano, qui in esclusiva nei nostri 30.000 metri quadri di esposizione perfettamente arredati. In tutti i nostri showroom, gli arredatori qualificati sapranno proporvi la soluzione perfetta per arredare la vostra casa. Ed il bello è che da noi la qualità ha il giusto prezzo. E solo qui, da Dotolo Mobili, troverete l'esclusiva promo sposi a interessi zero. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. Ah, dimenticavo, la promozione termina domenica 21.